amici di milan.soccer eccoci tutta la redazione qui per voi per augurarvi ancora un buon natale c'è la direttrice che ha mangiato tanto quindi adesso è un po' appisolata alienino ha mangiato il suo plutonio e quindi adesso è abbastanza rinvigorito no eccolo qui ma la direttrice non è da meno vuole salutarvi ancora e allora abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare visto che siamo tutti un po' appesantiti cerchiamo di dare un po' un senso a questa a questa giornata rossonera facciamo un piccolo bilancio un bilancio in cui mettiamo così gli undici titolari o quanto meno quelli che potremmo considerare in questa squadra di pazzi undici titolari e cerchiamo di dargli un conto un voto un giudizio guardate per esempio megnan è il nostro portiere megnan ha una capacità che è straordinaria unica lui è e potrà essere per sempre il miglior portiere del mondo su questo nessuno può mettere discussione nessuno può farne un oggetto di discussione megnan è il portiere più forte del mondo e purtroppo l'ho anche capito ed è per questo che non ha più quelle piccole genialità intuizioni che fondamentalmente sono forme di coinvolgimento verso un progetto a cui non crede più e non solo lui in molti non credono più progetto milan è un progetto che con pioli è un progetto fallito ha trovato il suo apice nello scudetto e poi è crollato io ho un nome un cognome però l'avete capito tutti qual è quando c'era paolo non andavano così le cose megnan è un portiere a cui darò sempre più della sufficienza però gli manca quella genialità quell'intuizione quel quel guardare da centrocampo le punizioni per dare suggerimenti all'attaccante quelle piccole follie è un po demotivato svuotato e non è facile dire bene vattene 80 milioni ne prendiamo un altro non si fanno così le squadre no calabria calabria è un giocatore che fa quello che può è migliorato ma soprattutto sente il peso della fascia però io lo definisco un po' un costa curta dei giorni nostri cioè caro costa curta tu che fai tanto il fenomeno che vinto cinque champions senza baresi e senza maldini e senza altri che non sto qui a citare ma non l'avresti mai vinte eri un giocatore normale come lo è costa curta con la sfortuna che non ha baresi e maldini che erano due extraterrestri centro centro della difesa non so dirvi non lo so possiamo dire tomori calulù non è non è chiaro calulù tra l'altro era una riserva tomori chier chier ormai a una certa età tomori non è giovane ma non si capisce bene quali sono i due centrali titolari della difesa diciamo tomori calulù va bene va bene però bisogna capire quanta affidabilità possono avere dei giocatori che non giocano insieme se non tre volte l'anno e quindi poca teo ernandez non è più lui da tempo no non è più lui da tempo perché è lo stesso discorso vale per l'altra fascia per l'altro della fascia sinistra che è le au non sono loro cioè è chiaro che stanno facendo il minimo sindacale ma soprattutto per mandare via all'allenatore non lo capisce questa società non lo capisce la lo capisce ma i soldi non è così non sono solo i soldi qui si muovono milioni e milioni e milioni di euro il patrimonio l'ho detto del video di stamattina il patrimonio di una società si basa sui capitali che sono anche quelli dei giocatori e allora tu non puoi non guardare a questo quindi teo ernandez e le au rispetto al 2022 stiamo parlando di due giocatori con potenzialità da leader mondiali con giocatori certo qualcuno ha scritto ma le au strappa strappa che strappa che strappa gli assegni strappa ma ve lo ricordate le au due anni fa oggi fa il le au quando gli va di fare il le au nelle altre volte non lo fa perché non ha voglia comunque andiamo avanti girù è sempre lui è forte però inizia avere 36 37 anni cioè non è su il progetto milan qual è quali sono i giocatori su cui punterà il milan se non sai due centrali di difesa che tra l'altro caro gerry cardinale batte a studiare la nostra storia la nostra storia dice che noi abbiamo sempre avuto i centrali di difesa più forti di tutti come il terzino sinistro comunque girù quest'anno sarà l'ultimo anno dopodiché o meglio il prossimo sarà l'ultimo anno dopodiché però non puoi fare affidamento su 54 partite su girù la fascia destra è pulisic che a me non dispiace però devo dire che quando lo vedo a sinistra è un'altra cosa quindi ci siamo andati a prendere un fascia destra come ciocuese ciocuese altra fascia destra ma a me non convince poi ditemi cosa ne pensate ma a me personalmente ciocuese non convince a centrocampo abbiamo loftus chic reinders reinders ha degli sprazzi da fuoriclasse e poi si addormenta ma attenzione non vorrei che facessimo un'altra volta una cialoglualata cialanoglualata cioè lo diamo via e poi di là gioca bene chiediamoci no dice ma anche al mila giocava abbastanza bene no di là è fondamentale diverso quindi probabilmente bisogna capire se questi giocatori oltre a essere infortunati sono effettivamente dei giocatori che hanno la capacità di esprimersi al meglio con questo allenatore ah ma io batto sempre lì mi dispiace che è natale tanto voglio dire stiamo parlando mica di stiamo parlando del milan milano scherza poi stavo guardando ancora per quanto riguarda altri calciatori che abbiamo preso tipo romero io mi chiedo che cosa l'avessimo preso a fare andiamo ancora stavo guardando un po il panorama generale si musà sono giocatori normali florenzi è un giocatore normale anche quando entra florenzi quando entra musà quando entra ciucuese forse alla fine quello più bistrattato è stato jovic tre volte che entrato tre volte ha segnato la metto lì è c'è gli altri tutti i fenomeni e fanno così così questo un ciuccio un asino ma dove l'avete preso l'ultimo minuto tre volte entrato tre gol l'ha fatto è il suo l'ha fatto ora pensare un milan del futuro che lavori per jovic no però voglio dire meglio di tanti altri che hanno fatto come dire questo tipo di che lavorano sul marketing piuttosto allora quale sarà il milan del futuro il milan del futuro deve essere un milan che riparte dalle sue eccellenze se ciò non sarà sarà un milan sottotono e dobbiamo abbandonare tutte le ambizioni e le accelle le eccellenze hanno un nome un cognome sono vignante ornandez e leau se questi tre resteranno ma crederanno nel progetto perché arriverà conte perché arriverà de zerbi allora attorno ci può ricostruire una squadra anche con questi giocatori che forse messi in campo in modo diverso possono dare molto di più ripeto vedici alla noglu altrimenti se continuano con questo allenatore i tre che ho detto chiederanno di andarsene ma se debbono stare a queste condizioni meglio che se ne vadano cioè se debbono stare a non giocare meglio che vadano per tutti ma se come è a giugno andrà via l'allenatore o se non succederanno disgrazie terribili anche prima ma dobbiamo trovare il traghettatore e allora staremo a vedere quello che accade va bene passate l'ultima parte di natale in serenità come questo gattino tanto buono ciao gattino tanto buono vuoi fare un salutino a tutti grazie non d'accordo